Fashion in stile epico con Monte Catena Salve, allora l'armatura è intesa come protezione nella storia dell'armatura viene intesa come protezione delle battaglie noi abbiamo reinventato il prodotto in stile epico ma unendo un discorso di protezione su strada a un discorso di stile in un esercizio che prima non era mai stato veramente aspettato abbiamo cercato di riprodurre con il cuoio e con la pelle una sorta di corazza che vada a ricreare sia nell'immagine che poi nell'effettiva protezione su strada un prodotto innovativo ma allo stesso tempo molto affascinante e stiloso noi nasciamo nel 2012 con questo prodotto con la grande collaborazione tecnica e ingegneristica di Gimoto leader nel mercato del suo misura in Italia abbiamo puntato sul made in Italy abbiamo puntato sul prodotto fatto bene sul prodotto curato e su un prodotto di stile antico dal sapore antico ma utilizzando soluzioni che arrivano dal racing che arrivano dall'esperienza racing che ha utilizzato Gimoto portandola ad un prodotto trasversale che può essere usato dal custom ma non disdegna l'utilizzo in moto su strada fino allo scooter che in effetti il nemico asfalto è uguale per lo scooterista che per l'arleyista quindi di fatto noi vendiamo una giacca alla persona sta al gusto della persona poi decidere se noi piacciamo o meno è un prodotto che divide, può piacere, può non piacere sicuramente Monte Catena, in questo caso Monte Catena Rotas è un prodotto diverso, è un prodotto che non si era mai visto Sergio, se noi vogliamo questi bellissimi giubetti che per esempio esponiamo qui dove li possiamo trovare, dove ti possiamo reperire? Allora sicuramente dal lancio a oggi visto le problematiche nella distribuzione del lancio in piena crisi del settore abbigliamento abbiamo fatto molto online perché grazie alle tecnologie della rintracciabilità misura e quant'altro noi abbiamo fatto dell'online il nostro zoccolo duro tuttavia avendo un capo tecnico stiamo iniziando a creare una rete commerciale una rete distributiva dalla Lombardia alla Sicilia che nel giro di circa 6-7 mesi porterà almeno in ogni regione un rivenditore autorizzato partner oggi abbiamo una decina di negozi soprattutto ahimè nel nord Italia siamo partiti di qui G-Moto è il nostro riferimento per il su misura e capo produttore e abbiamo poi un bellissimo atelier showroom presso Indian Mr. Trike di Cinisello Balsamo dove la Monte Catena viene presentata al suo meglio all'interno di un contesto molto particolare a presto a presto Grazie a tutti.